Ciao a tutti amici, sono Jerry di Ida Games, la Tana dei Goblin di Perugia e oggi vi farò l'unboxing della terza espansione di Arcamore 3 edizione, i segreti dell'ordine, se vi siete persi gli unboxing delle precedenti espansioni del gioco base le potete trovare nelle precedenti puntate degli apri scatole, allora andiamo subito a vedere quello che sarà il contenuto della scatola, tanto questa espansione aggiunge diverse tessere mappa in cui andremo ad esplorare anche il sottosuolo da quello che si legge nella descrizione, inoltre come sempre nell'espansione di Arcam la durata non varierà perché verranno semplicemente aggiunte nelle missioni e quindi non appesantirà il flusso di gioco, saranno sempre da 1 a 6 giocatori da 14 anni in su, andiamo a vedere che il contenuto sono 5 tessere di mappa, 4 investigatori nuovi, 3 scenari, 258 carte e 23 segnalini, andiamo subito a vederli da vicino, via il copericchio, abbiamo un regolamento dell'espansione che oltre al contenuto suppongo ci darà qualche indicazione su nuove nuove meccaniche spero, tipo bordi pericolosi chissà cosa saranno, mondi ultraterreni, misteri, tessere soia, questo mi fa pensare a un'espansione, un racconto di guardiano della soia, potrebbe essere anche uno scenario precedente che adesso magari non ricordo se l'ho già giocato, mostri nuovi, aggiungere, rimuovere i dati, aggiungere tessere alla mappa, insomma, non è che venga stravolto il gioco suppongo, è consultazione rapida, andiamo avanti, vediamo i nuovi investigatori, eccola qui, Agatha Crane, non è Agatha Christie, quindi, Mark Errigan, Preston Feynman, Winifred Abamok, e tre nuovi scenari, vincolo di servitù, il lamento dei morti, la chiave e la porta, ok, andiamo, andiamo avanti, vediamo i nuovi, abbiamo di nuovo Miskatonic University, non so se è uguale a quella che si trova nel gioco base, o se cambia qualcosa, adesso vedremo se ci sono delle carte specifiche, non capisco come mai mettere una tessera uguale che già esiste, o se è una tessera dell'espansione, adesso non ricordo di preciso, però mi pare di averla e di averci giocato, quindi credo sia del gioco base da Miskatonic University. Ok, questa è una nuova tessera che non c'è né sul base né sulle espansioni precedenti, ok, ci sono i simboli della salute mentale e della salute e un punto interrogativo, quindi faranno qualcosa di particolare. Abbiamo Miskatonic University sul fronte e Frenchill sul vetro, abbiamo altri segnalini che portale o quant'altro, perché sono segnalini di varia utilità durante le missioni, poi abbiamo una casa stregata che da quest'altro lato è innominabile, le icone dei nuovi investigatori e poi alcune icone di concentrazione. Quartiere mercantile, isola inviolata, Mone del fiume, TikTok Club e dietro abbiamo il mondo di sotto. Adesso mi viene il dubbio che magari queste tessere dovranno essere girate durante le missioni, se no non capisco davvero come mai rimettere i quartieri che sono già presenti, a meno che non cambino le icone e i luoghi, però non mi sembra. Poi abbiamo quest'altra tessera che non è una strada, cioè da un lato è una strada e dall'altro lato è qualcosa di strano, tipo un portale, quindi chissà. Qua gli altri simboli concentrazione che già sono ampiamente presenti nel gioco base. Andiamo a vedere le carte. Ok, abbiamo le carte relative alla casa stregata, ok, all'innominabile, che è la tessera che abbiamo visto prima e poi nuove tessere, queste sono tessere quartiere, sì, e queste sono quelle della missione. Quindi abbiamo nuove tessere quartiere, sia per il quartiere residenziale, south side, river town, north side. Ok, queste sono carte che praticamente si trovano nel... Ah, ecco, queste sono le soglie, che quindi andiamo a rivedere, potrebbero essere relative a questa tessera oppure no, perché è un po' diversa l'illustrazione. Poi abbiamo il mondo di sotto e Frenchill. Noto che Frenchill... no. E' un altro colore? No. No, mi sa che Frenchill fosse un quartiere nuovo, anche questo. Va bene. Ok, poi abbiamo dei nuovi oggetti, oggetti, quindi gli oggetti unici, le magie, un po' di oggetti normali e due alleati. Le nuove condizioni, abbiamo affaticato e dall'altro lato determinato. E poi i nuovi mostri. Le carte degli investigatori. Questo addirittura ha un talento innato, vediamo se si mette a fuoco, che è principio occulto. Questa è una carta unica, perché mi sembra che non ce ne siano altre. E credo a questo punto che sia di Agatha Crane. Ecco, non ce lo vedo il soldato da vedere il metodo scientifico, forse il principio occulto, ma... E insomma, andiamo avanti. Queste non le abbiamo viste. Queste sono le carte relative alle emissioni. No. No, in realtà... Non lo so. Sono uno di due, ce ne sono due per ogni quartiere. Quindi, non so se andranno aggiunte nel mazzo... Oh, eccole qui. Allora, era esattamente al contrario. Queste qui sono le carte della missione. Ok. E adesso... Dovremmo avere i nuovi codex. Ecco qua. E allora... Queste sono le nuove anomalie, credo. Anime perdute. Ok. Poi abbiamo le nuove notizie. E il nuovo codex. Finisce con delle carte quartiere. E qui... Le altre carte quartiere che servono per la missione. Quindi, le carte che contengono gli indizi. E nella scatola non c'è nient'altro. Ovviamente, le carte sono tanta tanta roba. E tante tante ore di gioco in più. Quindi, anche per questa puntata è tutto. E ci rivediamo al prossimo unboxing. Ciao!